Buonasera e benvenuti a Mediaclagemawa TV, ovvero il muro del pianto dei mass media. Più di 40 anni fa, e più precisamente il 20 marzo 1969, il dottor Richard Day, medico direttore nazionale dell'Organizzazione Americana per la Genitoria Pianificata, la PPFA, Planet Parenthood Federation of America, tenne una conferenza su il nuovo ordine barbarico. A quel tempo il dottor Day parlò del piano dell'elite globale, allora già redatto, dichiarando L'aborto, il divorzio e l'omosessualità saranno considerati come perfettamente accettabili e normali. Si possono vivere tutti i desideri e le inclinazioni senza ritegno. L'intera società sarà sessualizzata e ciò in pubblico. I bambini, già da neonati, saranno allontanati dall'educazione dei genitori e saranno indottrinate in modo politicamente corretto. Si vuole generare l'uomo assessuale, il neutro. Questo piano di cospirazione è così oramai sorto quasi completamente. Siamo in grado di invertire la rotta attivamente solo e soltanto se lo volessimo e lo facessimo. Grazie. 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 Grazie.